Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati sul canale, buon venerdì. Oggi parliamo dell'ultimo numero di Alan Ford, il numero 624 intitolato Confusione, che voi potete trovare al prezzo di 4 euro in edicola, alb uscito qualche giorno fa. Ed è il terzo volume che io acquisto di questa testata che appunto ho sperimentato tre mesi fa con il numero 622 intitolato Virus, che ho poi proseguito con il 623, un sogno quasi proibito di entrambi questi volumi. Ci avevo fatto così un video, ma i miei su Alan Ford sono video molto semplici perché è chiaro che io non avendo una grande cultura sul personaggio non posso dire più di tanto oltre alle mie impressioni sulle determinate storie in questione. Ad ogni modo, Alan Ford mi ha letteralmente catturato e ultimamente ho operato tutta una serie di tagli, quindi ho preso la decisione di stoppare alcuni fumetti per cause essenzialmente di budget, ma ho voluto tenere fuori da questa storia dei tagli Alan Ford perché è davvero una testata che mi sta piacendo e che mi sta divertendo. Ecco, tutti i mesi. E questo numero 624 intitolato Confusione, di cui faccio che mostrarvi subito la bellissima copertina di Dario Perucca, che è l'attuale disegnatore principe della testata. Voi sapete che Alan Ford è nato con i disegni di Magnus, la famosa copiata Max Bunker Magnus, autori anche responsabili, ecco, anche di Criminal, di Satanic, Magnus fu il primo disegnatore di Alan Ford e in qualche modo tutti gli autori che si sono succeduti nel corso dei vari anni hanno sempre un po' mantenuto lo stile grafico del grande Magnus e potete vedere che Perucca non fa eccezione. Questi disegni come stile, queste tavole come tratto, ricordano molto quelle di Magnus, ma sono ugualmente dei disegni meravigliosi. Io veramente mi stupisco positivamente tutte le volte che osservo i disegni di Perucca perché li trovo efficacissimi sia dal punto di vista del tratto che della leggibilità che anche dell'inchiostrazione. Secondo me c'è un'inchiostrazione davvero molto efficace, molto bella, che facilita la lettura ed è... non è semplice da gestire l'inchiostrazione, per cui veramente ci sono dei lavori davvero sempre molto validi sulle pagine di Alan Ford per quanto riguarda Dario Perucca. La storia in questione è molto divertente e in qualche modo si riaggancia con l'ultima avventura che avevamo visto lo scorso mese sulla testata di Alan Ford con il numero 623, un sogno quasi proibito in cui Alan Ford e sua moglie Minuet sognavano, diciamo, di incontrarsi in altre vesti, no? Quindi ritornava l'alter ego Nala Dorf di Alan Ford che sarebbe questa sorta di versione spietata, spietatamente cinica di Alan Ford. Ovviamente si fa il verso a Dottor Jekyll e Mr. Hyde e, come potete vedere da queste tavole, Nala Dorf ritorna in questa storia. Infatti, che cosa succede fondamentalmente? Succede che Alan Ford e Minuet si rendono conto di fare questi strani sogni e decidono un po' di capire, di cercare un po' di capire il motivo per cui fanno questi sogni molto bizzarri e peraltro condivisi in cui appunto vestono i panni di questi personaggi così sboccati, così immorali, no? E da lì partirà tutta una trama molto divertente, confusamente divertente. Infatti l'albo si intitola Confusione e qui effettivamente c'è una confusione, una comica confusione. Ecco, io non vi spoilerò più di tanto, anche perché non vi voglio rovinare la sorpresa, però sappiate che a un certo punto si ritorna anche a parlare di virus e quindi ci si riaggancia. Oltre al numero 623 ci si riaggancia anche alla doppia storia che avevamo visto sui numeri 621 e 622 di Alan Ford. A dire il vero io avevo visto soltanto il numero 622, ovvero virus, perché il 621 non lo avevo acquistato. Io, Alan Ford, l'ho iniziato a prendere dal numero 622, per cui avevo letto soltanto la seconda parte di questa storia. Tra l'altro, inizialmente, non ero neanche riuscito a capire che si trattasse della seconda parte di una storia già iniziata. Questo un po' per dirvi che le storie di Alan Ford, sì, queste tre avventure, essenzialmente, sì, potrebbero essere collegate, o meglio, questa potrebbe essere collegata con queste due avventure, ma in linea di massima, secondo me, può anche essere letta tranquillamente a sé. Ecco, non è che ci siano grandi riferimenti, non è che se voi non avete letto gli altri due numeri non capite nulla di questo albo, assolutamente no. Per cui, secondo me, non ci sono grossi problemi in quel senso. Certo, l'impostazione di questa storia è volutamente confusionaria, per cui forse chi legge per la prima volta Alan Ford con questo numero magari potrebbe avere qualche problemino nell'inquadrare proprio la serie, no? Ecco, potrebbe avere qualche problema nel capire che cos'è questa serie, che cosa offre, quali ambizioni ci sono all'interno di questa testata. Però sicuramente un albo carino, interessante, che non fa altro che confermare le mie impressioni per quello che mi riguarda su Alan Ford, un personaggio che io vorrei sicuramente approfondire di più e un giorno molto probabilmente farò, non appena ne avrò la possibilità, ma che però mi sta convincendo, assolutamente. Queste storie sono storie inedite, quindi non è una ristampa, il formato è il formato pocket, grosso modo simile, anche se non uguale, al formato che ben conosciamo di Diabolic. Il costo è di 4 euro, quindi costa di più rispetto a Diabolic, che però secondo me la qualità dell'albo, della cura con cui viene ancora oggi eseguita questa testata in qualche modo ne giustifica il prezzo. Ecco, questo è un po' il mio parere. Sicuramente le prime storie del personaggio saranno migliori rispetto a queste avventure inedite, io non posso espormi più di tanto su questo punto, perché non avendole mai lette, quindi conoscendo il personaggio da davvero poco, il personaggio da testata da davvero poco, non posso espormi più di tanto in questi pensieri, in queste opinioni. Sicuramente saranno migliori le prime storie, però bisogna anche contare che è una testata che va avanti, credo, dal 1969. Quindi è chiaro che dopo così tanti anni che una testata prosegue, secondo me è inevitabile che la qualità cali un po', ecco, non si può pretendere che tutti i mesi ci si trovi di fronte ad un capolavoro, per come la vedo io. Da non perdere neppure la pagina, diciamo, dove ci parla Max Bunker, quindi questa sorta di trafiletto finale in cui la parola è proprio Max Bunker, la parola è proprio data a Max Bunker che ci scrive, insomma che ci fa sapere un po' le sue opinioni molto ironiche, anche ciniche, anche taglienti sulla società, insomma qui si parla di pandemia, di virus e di dinamiche ad esse collegate. Io mi trovo particolarmente d'accordo, lo dico sinceramente, con il pensiero di Max Bunker, per cui non ne abbiate male, però ecco, concordo con quello che scrive, e scrive cose sempre molto divertenti e molto argute. e detto questo ci sono le solite pubblicità interessanti sul finire dell'albo legate ad altre pubblicazioni, diciamo, di Max Bunker, che magari per chi è interessato possono essere utili questi trafiletti, e per il resto che cosa dire? Io vi consiglio questo albo come vi consiglio un po' di dare una possibilità ad Alan Ford. Diciamo che il fumetto è formato pocket, più importante, oddio, più venduto, più conosciuto, ecco, anziché più importante, più conosciuto in edicola, è sicuramente Diabolic, però, insomma, guardate che anche Alan Ford, per come la vedo io, non ha nulla da invidiare a Diabolic, anzi, io, modestamente, no, modestamente, personalmente, io lo preferisco anche Alan Ford a Diabolic, forse perché ha delle dinamiche che mi attirano di più, ecco, semplicemente quello, alla fine, ognuno compra in base alle proprie disponibilità, ovviamente, ma anche alle proprie preferenze, per cui il fatto che io abbia deciso di proseguire Alan Ford a scapito di Diabolic non vuole affatto significare che consideri Alan Ford migliore di Diabolic, semplicemente lo trovo più nelle mie corde, ecco, e quindi ho fatto questa scelta. Se avete letto questo numero, fatemi sapere che cosa ne pensate, io, appena possibile, risponderò con molto piacere, e, anzi, mi scuso a volte per il ritardo che mostro nel rispondere a qualche commento, però anche per problemi di connessione, perché io, quando sono fuori casa, non ho internet sul telefono, per cui, anche volendo, non posso rispondere ai vari commenti e rispondo poi quando torno a casa e quindi mi collego alla rete fissa, ecco. Detto ciò, io vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao!